Prendiamo ammazzate questi stronzi, con me, sinistra. Signori, così ci serve vivo, tutti gli altri invece... Siamo ragazzi, i piedi enti. Allora, questo era l'inizio. Granata! Siamo ragazzi, i piedi, i piedi, i piedi, i piedi. Siamo ragazzi, i piedi, i piedi, i piedi, i piedi. Siamo ragazzi, i piedi, i piedi, i piedi, i piedi, i piedi. Siamo ragazzi, i piedi, 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 i pied C'è movimento! Arrenditi, body! Snap, coprimi! Sta andando! Sventi! Serve vivo, non morto! Ok? Fuori, muoversi! Ce l'abbiamo! Sventi tra! No, dai, dai! No, dai, dai! Restate in attesa! Non spostituire fuori! Serve voti! Svanata! Stavite da putzare! Stavite da putzare! Stavite daic! Stavite daic! Stavite daicajte! Letta duro era norayìa! Ogranditi da pura! Jak driODiene stavite daicPeople! C'è tementini? Come tangi, Ingo, ci sono! Posta, fingeré! La terra! Eット se riuscirà! E periodically, bledit, unes remoto! Stai cercando! Occhio, stai facendo saltare gli ecologi! Stai arrivato a terra! Stai facendo saltare le trapole! Connessione se usta via il putale! Oscudite, ombre, che dai dirvi! Stai eliminato! Stai eliminato! Stai eliminato sulla pista! Dovete lo stronzo! Ce l'ho! Vado fuori i mobi! Roger! Stai facendo questo lato! Fate il giro! Prefetto! Eh, cazzo lo broca! Mobis si sta scappando! Sprena! Cazzo lo broca! Stai evo! Sprena la parte! Stai avrei! Poti su se! E' esplendito! Sprena da, esplendito! Stai eliminato! Sosno! Voodoo, vediamo Vosic. Forse ci siamo. Non perderlo, Greco. Non ci penso nemmeno, amico. Lo sai, Michele, amico. Vai. Merda, recensione. Merda, non possiamo passare. Una recensione stampa. Quattro, non ci penso nemmeno. C'è un'acqua, non ci penso nemmeno. L'hollare, non ci penso nemmeno. Ok, prendiamolo. Mani, mani, mani bene in vista! Iepise! Hopite le pise! Un pomocio! Via! Chiudi! Braggio! Pomocitemi! Ai! Possiamo rimattere! Ormai! Buonassimi pomocio! Sì, Voodoo. Ti sento, Voodoo. Cosa ha detto Bozic? Ci ha dato molte conferme. Dubai è un centro logistico. Due navi. Una è in Croazia. La NATO la sta sequestrando ora. L'altra, la MV Mestres, è salpata ieri da Dubai per i Karachi. Ricevuto. Non capisco una cosa. Perché farle passare da Dubai? Hassan non è un operatore né un esperto di esplosivi. Non gli servono controlli. È un sistema logistico a compartimenti stagni, tipico di Al-Qaeda. Il sacerdote rifornisce cellule in tutto il mondo, ma nessuna ci ha permesso di risalire alla fonte. Visciti bastardi. Non ti preoccupare. Ora abbiamo una mappa dell'intera rete. Sono fottuti. Sì, e inoltre, il sacerdote ha potenziato la sicurezza. Sa ad Aldina il controllo. Oh, perfetto. Fai i bagagli. Tu e Mako avete un appuntamento con una signora. Dobbiamo portarvi alla nave prima che entri in acque pakistane. Basta incontrarci così. Quindi hai scelto un nome. A Tom piaceva Michael, ma visto che sarà una bambina, non si poteva. Ma tieni Michael nel cassetto, così quando… Isabella. Ah, fantastico. Quando Isabella arriverà con bellissime amiche, Michael potrà scegliere. Tesoro. Cosa? Ti ho conosciuta così. Dio benedica le sorelle. È il mio. Sì? Ok, colgo l'occasione per ritirarmi un secondo. Quanti? Sì. Ehi. Stavo giusto pensando, quando è stata l'ultima volta che noi quattro… Sono sposata con quell'uomo da 22 anni. E a differenza di tante altre mogli ho imparato una cosa. È molto meglio che siano felici. Sì. Di tutto sto che al sicuro. Sì. 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 Hai degli amici davvero tenaci. Sì. 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 Allora, perché non mi dici chi sono? Parenti Amici O forse la Tchia Ma b'ichky Uma rach yach Iza lam yatakallam Lan ya'ish Chi c'è dall'altra parte di questo telefono? Tua madre I'm t'avem annao l'Alla, Marcano ... ... ... ... ... ...